Sì, grazie Presidente. Quindi noi voteremo contrariamente a questa mozione solo per il semplice motivo che vogliamo le stesse cose che vuole la consigliere Catini. Il modo più diretto, più tempestivo, migliore per ottenerlo non è la strada della delibera di giunta, ma semplicemente ottemperare alle modalità canoniche, quindi stipulare una convenzione che è un attempimento che fa lo stesso direttore dipartimentale. Questo è il motivo per cui questa mozione è controproducente alla stessa consigliera e noi quindi voteremo contrariamente. Grazie Presidente.